Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! C'è l'acqua lede Ma anche meno Ma? Ma? Ma fanculo No! Si affoga! No! Si affoga! E' un po' mi sto mettendo paura Ma perchè sta cosa? Oddio! Mamma mia vai giù! C'è! Io sono di spiderman No non è possibile No amore sono spiderman Io sono proprio spiderman Vai giù! Clippate! Vai giù! Clippate! Fate la clip! Vai giù! Amore te lo giuro! L'ho è caduto! L'ho visto dai! C'è amore non capisco quanto sono veloce Immagina la sotto quanto sono veloce Cioè Amore la devi smettere! Mettila perchè ti vengono! Iiiihihi Si pario su michaela Secondo me vai giù Troppi alert Messi insieme Capite? Sono troppi alert Beh... Mi sa che non funziona Ma porco dio! Sono troppi... Troppi... Sono troppi... E allora scusate ragazzi Allo salve! Buonasera ragazzi! Come state? No! 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 Non funziona! Ah ma hai fatto una cosa da cassa! Ma andrà! Ma non funziona? Porco Dio Non credo proprio che resta Tutto ciò Ah porco Dio Una testata di Okazzo Una testata nel muro Porco Dio Che dolore Porca Madonna No Ahioia Ahioia Porco Dio Si è sentito? Ha fatto tac Si è sentito? Porco Dio Oh Michelino L'ho messo Porca Madonna Oddio ma che se scorregge oggi Ho paura Aiuto Si dovrebbe sentire Faccio un attimo un alert Per piacere No 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 non preoccupare non so da quanto ora sto sveglio sto cotto mi sono fatto oggi Napoli-Roma e sto ancora sveglio grazie di essere passati ragazzi grazie di tutto ragazzi, grazie per le sub per i bit che mi date sempre per le donazioni tante cose ma la signora mo lo tolgo no no mo lo tolgo a forza scureggione non puoi genna una domanda scureggione importante dimmi non hai il diritto vir buon da ora in poi sistemami con Jackie si sta porco oddio ma che hai fatto ma perché sta cosa oddio mamma mia vai giù c'è no voglio io sono spiderman no voglio devo pisciare arrivo subito oddio scusate ho fatto una scorreggina scusate scusate ciamaron mannaghi Bomber, ora ci fanno bomber Ah, copri Credino Sibita 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 ingenестно Sibita 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 no hanno detto loro e si tutto questo perché non puliscono i tombini vedi ieri è sognato Donald Trump la madre si è fortunata oddio fuochi d'artificio si parte oddio l'ha fatto oddio l'ha fatto grazie gran in the casa in the smoke grazie gran ora ritocca ridimotizzare tutta la casa è certo anche questo oh goddio ti sentite i miei coglioni e che c'è? oh becchiamo adesso ma mo cacchita è morta te che la puttare no non so sacro stano stano metto il bastone ma guarda qui questo è il bastone sacro è proprio così quella è la foto della mia macchina per cortesia per cortesia eh quando la vedremo vai giù presto presto eh è comodo è comodo assai è comodo assai è comodo ma non funziona ah ma hai fatto una cosa da cassa ah a a a a a a